Buongiorno, sono Alex del Centro Autoroma dal settore vendita. Il nostro centro offre un servizio di acquisizione veicoli anche conto terzi. Siamo quindi alla ricerca di veicoli da poter proporre nella nostra gamma di veicoli in vendita. Quindi se volete venirci a trovare offriamo una valutazione gratuita e con il miglior prezzo sul mercato.